Le telecamere dei videocitofoni sono molto utili a capire chi si trova alla nostra porta, così da decidere se è il caso di aprire oppure no. A volte però registrano qualcosa di decisamente spaventoso, come in questo video in cui vediamo una coppia di Washington fare ritorno a casa. Sembra tutto normale, l'uomo apre la porta ed entra in casa, seguito dalla compagna. Quello che accade un istante dopo però, deve averli terrorizzati. Un uomo armato ha seguito la donna che è riuscita a chiudere la porta chiave proprio un istante prima che lui potesse riaprirla. Una volta che si è reso conto di non aver più modo di entrare, ha notato il videocitofono e ha cercato di romperlo nella speranza di non essere ripreso o di corrompere in qualche modo il filmato. Ovviamente questo tentativo non ha funzionato. Purtroppo riguardo questa prima clip non sono riuscito a trovare ulteriori informazioni quindi non sappiamo se l'uomo è stato identificato e arrestato. In ogni caso si tratta di un incontro decisamente spaventoso, che ci ricorda di guardarci le spalle anche quando pensiamo di essere al sicuro. In questo video possiamo vedere due colleghe che lavorano in questo hotel che giocano con l'ascensore. In sostanza si trovano al terzo piano e vogliono vedere se correndo riescono ad arrivare al secondo piano prima dell'ascensore. Quindi piazzano il telefono al suo interno e appena le porte cominciano a chiudersi loro partono a correre. Quello che registra il telefono all'interno dell'ascensore però farà rimanere le ragazze piuttosto sconcertate. Guardate. Grazie. Durante la durata del video le ragazze scrivono di essere rimaste bloccate nelle scale e di aver dovuto chiedere aiuto ma intanto il telefono ha continuato a registrare. L'apparizione improvvisa di una di loro dietro le porte se devo essere sincero la prima volta che ho visto il video mi ha fatto saltare sulla sedia ma oltre a questo che non è nulla di inspiegabile appena le porte dell'ascensore si aprono e richiudono per la prima volta si può sentire una voce apparentemente femminile. Ma è chiaro che lì non ci fosse nessuno e si può vedere anche dal riflesso delle porte. Poi per qualche motivo sempre le porte continuano a chiudersi e riaprirsi come se qualcuno toccasse il sensore per farle rimanere aperte ma ancora una volta sembra che nessuno si trovasse lì. Questa però non è l'unica cosa strana accaduta in quell'hotel anzi è solo una delle tante. In un altro video fatto da uno dei loro colleghi il ragazzo dice che il secondo piano dell'hotel è vuoto per via di alcune ristrutturazioni e cambi d'arredamento ma da una stanza in particolare di quel piano che tra l'altro è lo stesso piano del primo video dell'ascensore continuavano ad arrivare chiamate alla reception. In quella stanza però come tutte le altre del secondo piano in quel periodo non c'era nessuno così il ragazzo riprende mentre va a controllare che non si trattasse di un malfunzionamento del telefono della stanza e questo è quello che ha ripreso. Questo è il fondo. No one's calling, no one's here, everything's chilling Yeah, ok No one here, no phone calls I'm out, this is weird La luce nella stanza non funziona, così il ragazzo accende una semplice abajur che ci permette a malapena di vedere cosa sta succedendo Il telefono non sembra avere problemi, ma mentre il ragazzo si guarda intorno, si ferma improvvisamente senza dire nulla per una quantità di tempo spaventosa Come se avesse visto qualcosa in quell'angolo nero della stanza Poi, evidentemente spaventato, decide di uscire il più in fretta possibile Dal video non si riesce a distinguere nulla e il ragazzo non ha dato ulteriori informazioni riguardo la clip Però, in quella stessa stanza è avvenuto qualcosa di molto strano, ripreso dalle altre due colleghe di prima Nel video, a detta loro una sorta di vlog, le due stavano cambiando l'arredamento riprendendosi Al momento delle riprese, l'intero piano era ancora totalmente vuoto per via di questi lavori Erano solo loro due, sole in quella stanza, e hanno ripreso questo Quando una delle due ragazze inclina lo specchio, nel riflesso si può vedere una sagoma nera ben distinta Ha sembianze umane, ma per via del suo colore estremamente scuro, sembrano un essere umano Inoltre, quando la ragazza prende il telefono e riprende quella parte della stanza, non c'è più assolutamente nulla La figura nel riflesso sembrava stare lì, in piedi, a fissarle, ma appunto in realtà non c'era nessuno Quindi cosa cavolo hanno ripreso dentro quella stanza? Al momento gli account dei ragazzi non hanno pubblicato ulteriori aggiornamenti La cosa certa è che riguardando questi video, sono rimasti decisamente terrorizzati Se avete foto o video spaventuosi, catturati da voi, oppure vedete dei video inquietanti e inspiegabili sul web Che vorreste vedere in questo canale, mandate il vostro materiale alla mail solhorror98-gmail.com Il video che state per vedere riprende brevemente l'interno di un ospedale abbandonato nella cittadina di Iasi, in Romania È stato registrato da un gruppo di amici e pubblicato su Reddit Quando i ragazzi sono entrati a fare un giro in quella struttura affatiscente Volevano solo vedere cosa si nascondesse al suo interno Ma non si aspettavano di riprendere qualcosa di questo tipo Guardate A primo sguardo non si riesce a distinguere nulla Ma guardando la clip a rallentatore si può chiaramente notare quella che sembra una donna sbucare dall'angolo a sinistra Una donna decisamente inquietante però, che sembra uscita da un film horror Secondo voi cosa hanno ripreso questi ragazzi? Magari una senza tetto che ha trovato rifugio in quell'edificio? Oppure qualcosa di inspiegabile? Come avete potuto vedere, la sola vista di questa signora ha fatto scappare i ragazzi a gambe levate Il 24 novembre del 2024 Un bidello sta facendo il turno di notte nella scuola superiore in cui lavora Dopo una certa ora, agli studenti non è più permesso passare in quest'ala della scuola E gli altri bidelli, racconta il ragazzo, non vogliono mai fare il turno di notte La scuola in questione è stata costruita sopra un cimitero E il ragazzo nel video mostra anche le fotografie appese per il corridoio Che ritraggono il sito prima della costruzione della scuola Oltre a questo, ci sono anche dei frammenti delle vecchie tombe appesi sui muri Molto inquietante Secondo i bidelli, ma anche secondo gli studenti, la scuola è infestata I colleghi del ragazzo più in particolare dicono che ogni notte, lì, succede qualcosa di spaventoso E quella notte, il bidello decide di registrare perché stava accadendo qualcosa di molto strano anche a lui Ma durante le registrazioni accade qualcosa di ancora più inquietante Che gli farà decidere di andarsene via immediatamente Tutto quello che vi ho spiegato è essenzialmente ciò che dice il ragazzo nel video Quindi guardate cosa ha ripreso All'altra All'altra Previous janitori che ho lavorato qui hanno cercato di dire che ogni notte qualcosa di succedere Che succedere qualcosa di succedere Paranormal o qualcosa che vuoi chiedere But, yeah, I didn't really believe him until tonight Um, I was in here cleaning up after some students had thrown a party But, um, what's been freaking me out is this one right here Um, no matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me And, do your thing, you stupid balloon I got you on camera now, so let's just, uh, see? See? That right there Um, shit Shit Just Oh, okay See? No, no, no It just, it just follows me, no matter what Oh No, I can't Quando il ragazzo esce dalla classe Il palloncino comincia a seguirlo in maniera molto precisa E, cosa strana, tutti gli altri palloncini rimangono fermi e immobili al loro posto Per qualche motivo, solo quel palloncino rosso sembra seguirlo Ma mentre riprende tutto questo Una figura passa ad una velocità spaventosa fuori dalla struttura Il che è abbastanza per far decidere al ragazzo di tornare a casa immediatamente Che cosa sta succedendo in quella scuola? Possono essere eventi in qualche modo architettati Oppure non c'è alcuna spiegazione se non il paranormale Come sempre, fatemi sapere la vostra Il video che state prevedere è stato registrato da un uomo Che aveva deciso di fumarsi una sigaretta all'esterno della sua casa Erano le 7 del mattino Orario in cui, secondo le sue parole, nessun altro in casa era sveglio a parte lui Era tranquillo a fumare una sigaretta nel suo giardino Quando, quasi per caso, ha buttato l'occhio sulla porta del garage vicino a casa sua Quello che ha visto All'inizio lo ha immobilizzato dal terrore Poi però è riuscito a prendere il telefono e cominciare a registrare Questo è il video di quel giorno What the fuck, bro? Ok, cool Un volto sembra apparire dal nulla dietro la porta Un volto decisamente strano, pallido, immobile e senza emozione Che fissa il vuoto Oltre a questo, sembra che il resto del corpo non ci sia C'è il volto, c'è una testa, ma non c'è un corpo Sembra quasi essere una testa fluttuante L'uomo inoltre ha dichiarato che non poteva essere un membro della sua famiglia Perché hanno tutti un tono della pelle molto scuro Sicuramente più scuro di quel volto pallido Ad un certo punto, comunque, con non so quale coraggio L'uomo si avvicina alla porta E il volto, così come era comparso, sembra scomparire nel nulla Di cosa si è trattato? Com'è possibile che un volto e una testa non abbiano un corpo? È forse un gioco di luci? Pareidolia? O forse qualcosa di paranormale? Aspetto le vostre conclusioni qui sotto Intanto io vi ringrazio Vi ricordo di iscrivervi al canale Se avete provato almeno un brivido E vi do appuntamento al prossimo spaventoso video